50 anni di attività, un traguardo per niente facile da raggiungere, ma Eurogroup, l'azienda di Silea in provincia di Treviso, lo scorso 17 dicembre ha festeggiato mezzo secolo d'impresa. Nel 1966 Eurogroup è nata con una dimensione artigianale, ma negli anni ha saputo affermarsi a livello nazionale e anche estero, sino a diventare oggi leader nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici e tecnologici. Negli anni 90 abbiamo incrementato i nostri settori con l'automazione, poi negli anni 2000 abbiamo inserito la meccatronica Global Service, nel 2014 l'efficienza energetica e nel 2015 abbiamo certificato come ESCO questo tipo di attività. Una giornata di grande festa per l'azienda che ha messo in bella mostra tutti i settori in cui opera con le relative tecnologie sviluppate. Una giornata vissuta con grande emozione, soprattutto da parte dei lavoratori. Presente è anche la presidente di un'industria Treviso, Maria Cristina Piovesana, che ha sottolineato l'importanza per il territorio di avere imprese solide come Eurogroup. È una giornata molto emozionante anche perché credo che nella storia dell'azienda 50 anni sono importantissimi. Ci teniamo a precisare che stiamo festeggiando assieme ai nostri collaboratori, non parliamo di dipendenti ma parliamo proprio di collaboratori perché ci hanno aiutato ad arrivare oggi dove siamo. Questo non è un traguardo ma è un punto di partenza. Noi abbiamo 250 collaboratori e se siamo arrivati qua è proprio attraverso questa squadra. Per noi è un bellissimo risultato, soprattutto è una grande festa perché abbiamo veramente coinvolto appunto fornitori, i collaboratori e i clienti. Eurogroup vanta numerose certificazioni. Molta soddisfazione però arriva anche dai mercati esteri con tre filiali recentemente aperte. Abbiamo una filiale in Germania che ci dà delle buone soddisfazioni con dei lavori sul campo dell'automotive. Abbiamo aperto una filiale in Polonia dove ci stiamo occupando di un progetto per la realizzazione di colonnine di ricarica automobili e un progetto interessante ad Abu Dhabi dove siamo presenti da due anni per quanto riguarda l'esecuzione di due resort turistici. Quindi l'estero intendiamo svilupparlo ulteriormente, chiaramente il tutto senza perdere l'occhio di riguardo per il territorio. Eurogroup è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove start-up come lo sviluppo software, la sicurezza informatica, il potenziamento del global service e lo sviluppo meccatronico. Insomma l'innovazione, l'efficienza e l'avanguardia fanno parte da sempre del DNA di Eurogroup. e l'efficienza e l'efficienza e l'efficienza.